Pioggia e maltempo non hanno fermato l'arrivo di turisti a Salerno per il ponte dell'Immacolata, tanti visitatori che hanno raggiunto il capoluogo da tutta Italia per ammirare le luci d'artista, soprattutto nel centro storico e alla villa comunale. Il tasso di occupazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere per questi giorni ha sfiorato il 75%, bene ma poteva andare meglio per gli operatori del settore. Anche il sindaco Napoli è soddisfatto ma si può fare di più, sempre nel rispetto della sicurezza. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, le alleste mete e quant'altro, credo che il risultato sia sostanzialmente soddisfacente. Ci auguriamo che nel prossimo weekend le cose possano ulteriormente incrementarsi in quanto a presenze, in quanto a cittadini e a visitatori che ci onorano con la loro presenza. Fondamentale per supportare l'arrivo dei visitatori a Salerno il nuovo parcheggio di Piazza della Libertà. Il parcheggio è fondamentale per la città di Salerno, si è aspettato tanti anni e questo permetterà soprattutto per le attività commerciali di dare un'incisione e una forza a essere molto più propositivi e a far venire la gente. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, però in una nota denuncia problemi al parcheggio dove vi sarebbero già numerose infiltrazioni al lavoro in queste ore operai per risolvere il problema. Celano poi chiede chiarimenti anche sull'accatastamento che non sarebbe ancora ben definito.